Corro per non pensare a chi sono. Corro per pensare esclusivamente a raggiungere con la mente. Non è me importa che appaia come una stravaganza. È qualcosa di cui non posso fare a meno, per non soccombere all'orrore, non una sensazione puntuale e fugace in me, ma un sottofondo permanente. Raggiungo con la mente e con lo spirito mia figlia, ferma nel passato e nel mondo ultraterreno in cui si trova. Finché sarò in grado di correre, le terrò compagnia a modo mio, per mitigare lo smarrimento, il terrore che starà provando da sola, laddove si trova, finché vivrò, le starò vicino come posso, attraverso altri che si trovano nella sua stessa dimensione, integrandomi empaticamente nell'attivazione narrativa della loro vita passata. L'azione, infatti, deve essere mediata. Non potrei mai farlo io direttamente.